Benvenuti a Il punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni. Questa settimana sono ospiti in studio i consiglieri Lamberto Bottini del Partito Democratico e Alfredo De Sio per il gruppo Fratelli d'Italia. De Sio vorrei cominciare da lei. Di solito la prima pagina la dedichiamo alla politica, oggi parliamo un po' di un'altra cosa. C'è un fatto molto grave che è successo nella sua città, Terni, un omicidio brutale. Si può morire anche camminando per strada e non prendendo parte ad alcunché. Una terribile casualità e un delitto che scuote in profondità le coscienze di tutti. Tutti hanno voluto partecipare a questo momento terribile. Non è normale, no? Quello che è accaduto. No, non è assolutamente normale. Purtroppo questa è stata una vicenda che ha colpito in maniera forte la città, la comunità ternana. Ha colpito soprattutto una famiglia, un giovane che è un giovane come tanti giovani di Terni che frequentano il centro cittadino e che purtroppo riporta alla luce quella che comunque era una situazione di un clima sicuramente non tranquillo della città di Terni. Perché se è vero che non bisogna in qualche modo enfatizzare, estremizzare, alimentare le paure, però è altrettanto vero che non possiamo far finta di nulla. E la situazione nella città di Terni, come nell'Umbria in generale, da molto tempo a questa parte, è una situazione di grande preoccupazione. E allora se è vero che non bisogna fare di tutto un erbo a un fascio, è altrettanto vero che non si può fare di tutto un fascio un filo d'erba. Cioè questa situazione non è una casualità. La casualità purtroppo brutale è stata quella della morte di questo ragazzo. Ma se questo evento, diciamo così, luttuoso, criminale, che si è concluso con la morte del giovane David De Raggi, fosse stato in qualche modo più lieve, nel senso che magari non si fosse arrivata alla morte del giovane, il fatto sarebbe stato altrettanto grave, perché si sarebbe aggiunto a quelli che sono una serie di fatti che stanno avvenendo nella città di Terni e che creano un clima di grande insicurezza. E allora se noi, come hanno detto le ultime statistiche, verifichiamo che nella città di Terni c'è stato un aumento negli ultimi anni del 250% di quelli che sono reati, quelli che sono scippi, furti, tutto quello che attiene alla sicurezza dei cittadini, io credo che su questo dovremmo porre l'attenzione non solo quando si arriva alle estreme conseguenze, ma sempre. E questo credo che sia l'elemento sul quale bisogna lavorare. A questo mi permetto di aggiungere che Terni, come spesso accade negli ultimi tempi, diciamo per una serie di vicende, anche in questa vicenda, è diventato un po' il paradigma di quello che non funziona, perché qui non siamo semplicemente di fronte appunto a un atto che è accaduto per caso, qui siamo anche di fronte a quella che è l'assurdità di un sistema italiano dove una persona che è stata, si è macchiata di reati, di reati per furto, rapine e altri, che è stata espulsa nel 2007 dall'Italia, che rientra con un barcone a Lampedusa sotto falso nome, che viene identificato, riconosciuto e che viene quindi espulso nuovamente, presenta ricorso per un asilo politico che non si capisce bene poi da quale tipo di situazione dovrebbe derivare, essendo lo stesso marocchino, non mi risulta che in Marocco ci siano guerre o altre situazioni di questo tipo, rimane libero in attesa di un ricorso che tra l'altro non si capisce bene che cosa dovrebbe accertare più di quello che è stato accertato. Allora, io credo che ci siano due elementi, uno che sia quello di valutare e verificare quali debbano essere le misure da mettere in campo in una città come Terni per renderla più sicura, perché Terni è piena di aree nelle quali ci sono balordi, ci sono situazioni di violenza quotidiana, c'è un'insicurezza diffusa, senza che per questo debba diventare una forma, diciamo così, maniacale, però è la realtà e minimizzare sicuramente una giusta. Dall'altra c'è da farsi la domanda come sia possibile che una persona che abbia queste caratteristiche possa girare a piede libero in una realtà come quella di Nana quando è chiaro che non è uno di quei soggetti che può richiedere asilo o può essergli riconosciuto l'asilo politico di nessun tipo, dovrebbero essere semplicemente escludi. Quindi da questo punto di vista va cambiata anche la legge. Coloro che hanno commesso reati in Italia, io credo che sia la cosa minima, che non possano avere nessun tipo di riconoscimento di asilo politico. Purtroppo poi tutto questo nel contesto si è concretizzato in quello che è stato un atto tremendo, un atto che ha scosso la città e sul quale credo che però bisognerà, alla fine del lutto, alla fine di queste giornate che hanno coinvolto in maniera unitaria tutti quanti le persone, i cittadini di Terni, in una grande solidarietà, debba portare a delle riflessioni e anche a alcune misure che vanno assolutamente prese. Effettivamente l'Alberto Bottini ci si interroga anche sulle politiche di integrazione, perché le crepe a questo punto ci sono. È vero che l'Italia è sottoposta a uno stress senza pari, perché siamo il paese dove sbarcano decine e decine di migliaia di extracomunitari e ci sono naturalmente quelli che chiedono l'asilo politico, ma ce ne sono altri che evidentemente si uniscono a questo flusso. Ecco, il governo, la politica, che tipo di risposta deve dare a queste comunità che vengono colpite con una violenza inaudita? Poi tutti si rifugiano in se stessi, quindi c'è un incremento degli episodi di razzismo, c'è un sentore di differenziazione con l'altro, insomma diventa anche difficile andare avanti con l'integrazione, ci sono problemi enormi ai quali poi anche il governo deve dare una risposta. Cioè il problema sicuramente è estremamente complicato e credo che sia un problema, come dire, che noi rispetto al quale dobbiamo farci un po' i conti, ce li abbiamo fatti, ce li stiamo facendo e dovremo ancora farceli in futuro, perché è evidente che il tema, il tema dell'immigrazione, il tema della integrazione è un tema tra i più complicati anche da affrontare e che molte volte non riescono neanche a rimuovere anche singoli fatti che vediamo dalla cronaca, che la cronaca ci propone in varie città italiane, altre città d'Europa, cioè il tema è abbastanza diffuso. Certo che lo sforzo da produrre deve muovere in varie direzioni, in varie direzioni. La prima sicuramente, vista anche la mole anche di ingressi che continuano nel nostro paese, che è un paese di frontiera da questo punto di vista, il tema di come integrare, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista scolastico, da un punto di vista abitativo, da un punto di vista culturale, diciamo tutto questo flusso di persone che arrivano, la maggioranza delle quali sicuramente sono in grandissima difficoltà, ma all'interno delle quali probabilmente ci sono anche elementi che si infiltrano e così via. Quindi il tema dell'integrazione deve tornare, secondo me, ad essere un tema centrale delle politiche, direi, regionali ma soprattutto anche statali. Insieme a questo c'è il tema dei controlli, cioè le cose non possono essere scisse, insomma la bilancia va tenuta un po' in equilibrio. Il tema dei controlli che indubbiamente devono, come dire, accendere una lente molto grande rispetto anche a singole situazioni perché adesso, senza sbilanciarsi troppo, non è proprio il caso, ma forse situazioni come quella che si è verificata a Terni, con un percorso, insomma, di controllo e con una normativa, con un percorso giurale, avrebbero forse, diciamo, potevano essere un po' scongiurati. Ecco, e credo che da questo punto di vista bisogna fare uno scatto in avanti anche da un punto di vista politico. Cioè sul tema della sicurezza, al di là che possono esserci come approcci culturali, politici, differenti, credo che bisogna chiudere la pagina della speculazione politica. Ma deve essere effettivamente un tema che ormai è diventato centrale nel nostro paese, nel nostro città, che non rimuove il problema neanche nei piccoli centri. Terni, in fondo, è una città media del nostro paese, ma fatti di questo tipo a volte li abbiamo visti anche in realtà più piccole, per cui nessuno è immune da un problema di questo tipo. E credo che serva uno sforzo anche largo, bipartisan, che possa concentrare, insomma, anche sulla luce delle esperienze che ci sono in giro, in paesi che hanno fatto fronte a questo tema anche prima di noi, parlo della Germania, parlo della Francia, dell'Inghilterra, insomma, per fermarci all'Europa, che possano, ecco, come dire, essere allo stesso tempo estremamente accoglienti ed ospitali, ma allo stesso tempo estremamente rigidi nel controllo e nel pretendere il rispetto delle regole quando si entra in una comunità differente. Ecco, credo che questi siano un pochino i temi. Quello che mi pare da poter dire, anche perché fatti meno, diciamo, meno violenti, ma che ugualmente hanno preso la ribalta, sono verificati anche a Perugia, le spaccate recenti nel centro storico, insomma, che determinano e continuano a rilanciare insicurezza tra i cittadini. Quello che mi pare da poter dire è che in Umbria le istituzioni, il sistema politico istituzionale sia ancora sano dai rapporti vari che abbiamo sentito, il che ovviamente è un punto importante da qui partire, non significa questo abbassare per niente la guardia, anzi, cercare tutto insieme, facendo leva tutte le energie che possono esserci anche in regione come la nostra per cercare di affrontare, prevenire, insomma, fenomeni come questo. Entriamo nella politica, tra poco si vota, questa è una delle ultime puntate di approfondimento con gli esponenti di Palazzo Cesaroni, lei De Sio sarà candidato per i Fratelli d'Italia o farà parte del schieramento che sostiene Claudio Ricci oppure ci sono altre novità, ci spieghi la sua posizione? Naturalmente con Fratelli d'Italia noi siamo all'interno della coalizione che appoggia Claudio Ricci, ci sono stati tutta una serie di percorsi che hanno portato a questa decisione che io tra l'altro ho spiegato ben prima che i tavoli, i caminetti e quant'altro decidessero secondo Riti, secondo me anche un pochino sorpassati questa decisione e quindi sarò all'interno di questo tipo di percorso. Per quanto riguarda invece la mia situazione personale in questo frangente delle elezioni regionali, quindi una mia eventuale ricandidatura, credo proprio che questo sia il momento, come dire, di fare spazio, di lasciare quello che è stato un impegno che per tanti anni, dal 1995, mi ha visto presente all'interno del Consiglio regionale, dove credo di aver vissuto stagioni importanti sulle quali ci sarebbe anche molto da dire dal punto di vista poi storico di quello che è stato il risultato del regionalismo di questo percorso nel quale con posizioni diverse tutti ci siamo confrontati, ma credo che per quanto mi riguardi non sarò della partita almeno dal punto di vista della candidatura e quindi su questo però non credo anche che ci sia la necessità di fare un rinnovamento che non è tanto un rinnovamento anagrafico, credo che sia proprio un rinnovamento di classi dirigenti che è necessario, perché leggo molte cose rispetto al giovanilismo in questi ultimi tempi, una cosa che viene semplicemente basata su un fatto generazionale fatto di millesimi, cioè millesimi, quella del 50, quella del 60, quella del 70, e come se questa poi fosse una valutazione che viene fatta oggi. Io vi invito a molti, diciamo agli osservatori più attenti a leggere le date di nascita di coloro che sono entrati in consiglio regionale e che magari hanno sviluppato la loro attività nel 95, nel 2000, vi accorgerete che diciamo una importante classe dirigente fatta di 35 anni, addirittura qualcuno un trentenne, penso per citarne due, per non citare il sottoscritto, pensate a Bocci che entrò in consiglio regionale nel 95 e ce n'aveva 30 anni, ugualmente Fiammetta Modena, il sottoscritto che ce n'aveva 35, o Raffaele Nevi più tardi che ne aveva 32, Lafranco che ne aveva 30, voglio dire questo diciamo rinnovamento generazionale c'è stato, c'è stato, poi la politica, i cittadini valuteranno quella che è la capacità di ognuno di questi soggetti che hanno partecipato alla vita pubblica regionale, i risultati politici che sono stati ottenuti, ma credo che da quel punto di vista forse chi è che è stato più longevo all'interno del Consiglio regionale può darsi pure che fosse quello più attrezzato, forse quello più bravo, quello che ha dimostrato di essere più in sintonia con i propri elettori e questo credo che sia quindi un passaggio che in questo momento è dedicato in special modo al cambio delle classi dirigenti, ma classi dirigenti che devono essere brave, devono essere adeguate, devono essere preparate, non devono avere semplicemente una carta di identità più giovane di un'altra. Senta, se dovesse in pillole, solo titoli, fare un po' un bilancio di questa lunga frequentazione del palazzo, ha detto ci sono state delle riforme, sono stati avviati dei processi. Io penso che ci sia stata innanzitutto una percezione comune allora, vent'anni fa, che purtroppo non riuscì ad esprimersi al meglio, che era quella della Regione Leggera, presentata dall'allora Presidente Bracalente, nella quale noi ci confrontavamo nel ruolo di opposizione, ma attenti a quello che era quel segnale, quel processo, perché fare oggi le riforme di allora non significa aver fatto le riforme, significa aver fatto le riforme con vent'anni di ritardo. E allora, se io penso che nel 1995 noi fummo quelli che proponemmo il referendum per la diminuzione del numero delle ASLA, che erano passate appena da un anno da 5 a 4, noi proponemmo in quel momento che forse l'assetto duale dell'Umbria venisse mantenuto, cosa alla quale siamo arrivati con vent'anni di ritardo, io credo che quelle sono state le occasioni perse, non delle situazioni colte oggi, così come la riforma delle comunità montane, lo snellimento burocratico, la semplificazione, insomma, le occasioni perse sono state tante rispetto a delle intuizioni che erano, come dire, visibili, erano palesi. Oggi quello che io ho costato è il fatto che noi siamo arrivati ad alcune riforme che pur abbiamo votato, anche noi perché le abbiamo ritenute necessarie, almeno molti di queste, in mezzo a quella sulla semplificazione o d'altra ancora, ci siamo arrivati per, come dire, per un percorso di riforme subite più che un discorso di riforme volute e questo francamente è qualcosa che lascia l'amaro in bocca perché oggi l'Umbria, indipendentemente da chi è governata, diciamo sconda forse questo passo lento rispetto a quello che è il dinamismo di altre regioni che hanno saputo organizzarsi meglio dal punto di vista sociale economico. L'altro aspetto, diciamo così, l'epitaffio, capisco ho detto tutte cose che non è che inducono all'ottimismo, ma l'epitaffio di questa regione è scritto nel numero dei consiglieri che oggi noi andremo ad eleggere il 31 di maggio, cioè i 20 consiglieri rappresentano anche, come dire, la fotografia del fatto che non siamo stati in grado di crescere, se fossimo arrivati a quel famoso milione di abitanti avremmo avuto un altro tipo di consistenza, un altro tipo di rappresentanza. Il fatto che esista una circoscrizione unica nella quale Terni e Perugia dovranno eleggere i loro candidati da San Giustino fino ad Otricoli dà la dimensione che siamo diventati una grande provincia e che quindi non saremo senza altro quella cerniera che invece avevamo pensato all'inizio degli anni 90 poter essere il fulcro centrale di quell'area dell'Italia di mezzo che poteva diventare una cosa importante. Oggi ho visto anche questi segnali di ridisegno della geografia delle regioni dell'Umbria e vi dico che non mi piacciono, c'è un aspetto marginale di quella che è la storia dell'Umbria che credo quindi non abbia prodotto in questi anni quello che tutti i cittadini si aspettavano. Bottini, visto dalla maggioranza di centro-sinistra che ha governato la regione, lei tra l'altro con una parentesi importante come assessore all'ambiente, quindi ha seguito passo passo il ciclo dei rifiuti, la gestione della salubrità di questa regione, c'è stato anche un passaggio importante, l'inceneritore su Perugia che era in programma alla fine non si farà, insomma quali sono i punti, su che cosa bisogna puntare da oggi in avanti per dare un futuro migliore a questa regione che come diceva anche Desio è un po' sotto scopa, cioè c'è un processo di ridimensionamento che riguarda non solo l'Umbria ma che noi piccoli rischiamo di essere colpiti in maniera seria? Innanzitutto penso che su alcuni temi è bene non prendere una china negativa, nel senso che su alcune questioni l'Umbria è stata e resta una regione ben posizionata nel panorama diciamo delle regioni italiane, è una regione quasi d'avanguardia e se cito due aspetti per esempio tra i tanti che potrei citare, in Umbria i servizi sociosanitari restano tuttora pur con qualche differenza di deposizione, di gradina gradatoria, ma restano e sono stati riferimento anche per quanto riguarda il sistema sanitario, sociosanitario nazionale. La stessa cosa sul sistema complessivamente della qualità della vita e dell'ambiente, l'Umbria è stata ed è una regione di riferimento per la qualità della vita, l'Umbria è stata ed è una regione tra le meno diseguali d'Italia, vuol dire che c'è meno differenze, meno sproporzioni da un punto di vista della ricchezza e quindi conseguentemente della realizzazione di benessere insomma delle famiglie, delle persone. L'Umbria sul versante ambientale è una regione di riferimento, viene poco dopo se vogliamo il Trentino, mi pare la Val d'Aosta, da un punto di vista dei grandi parametri macro ambientali, per cui è una regione pur nella sua dimensione geografica e demografica che è stata sempre guardata su tanti aspetti con particolare attenzione. Ora c'è una fase di crisi inevitabile che mette anche a nudo alcuni limiti anche strutturali della nostra regione, il sistema economico della nostra regione, il dimensionamento delle imprese della nostra regione che sono molto piccole, una internazionalizzazione delle nostre imprese che ancora fatica un po', tant'è vero che quelle che vanno meglio sono quelle che hanno rapporti con l'estero e così via. Un problema aperto per quanto riguarda la presenza nella nostra regione delle multinazionali, è una regione che ospita in proporzione molte multinazionali, dove c'è una continua ricerca di un rapporto positivo tra le strategie globali di queste imprese e l'inevitabile aspettativa di radicamento e di certezza nel territorio. Credo che ci siano degli aspetti di questo tipo, oggi all'ordine del giorno inevitabilmente in una fase di grandissima crisi c'è il tema economico, il tema della competitività, il tema, il grande tema dell'innovazione e da questo punto di vista io credo che rapidamente, anche con uno sforzo culturale, bisogna rendersi conto sempre più che le risorse quelle sono, non ci sono per tutte, per tutto, che bisogna selezionare gli interventi e probabilmente cercare di accompagnare, di sostenere quelle iniziative anche imprenditoriali, diciamo più innovative, che affrontano segmenti anche di impegno diversi da quelli più tradizionali e credo che, essendo obbligati a essere selettivi da questo punto di vista, bisogna andare là, verso chi ha una prospettiva di fatturato, di occupazione. Ecco, questo è un tema ovviamente per noi, per me molto importante e molto caro, sempre più secondo me bisogna guardare con interesse quelle imprese che nei loro obiettivi consentono e favoriscono anche occupazione significativa, visto il dato anche Umbro particolarmente significativo da questo punto di vista. Ecco, questi sono gli aspetti, dopodiché essere protagonista nella eventuale riforma che può toccare le regioni, cioè l'Umbria non ha da rinnegare niente, l'Umbria deve presentarsi in maniera orgogliosa del proprio modello, tra virgolette, l'Umbria deve candidarsi eventualmente per quello che è stata ed è a essere centrale anche nella riorganizzazione delle regioni italiane, qualora dovesse procedere questo aspetto. Non deve andare là con spettatrice a vedere quello che succede e timorosa, essendo anche baricentrica nell'Italia mediana, può esercitare un grandissimo ruolo, ma lo può esercitare anche per il portato che questa regione ha alle sue spalle. Ecco, ora noi abbiamo davanti una futura legislatura dove questi temi saranno sicuramente importanti, renderanno più fluidi tantissimi rapporti, bisognerà produrre questo sforzo di accompagnare nuove tecnologie, innovazione in tutti i campi, la, diciamo così, ormai spesso richiamata sinergia tra università, imprese, sistema istituzionale, cioè in maniera che tutti possano essere messi nelle condizioni di dare il meglio. Di certo è finita qualunque tipo di rendita, sotto tutti gli aspetti, se vogliamo politici, economici e così via. Quindi siamo in una fase dove bisogna spremere qualunque livello di responsabilità, pubblico e privato che sia, per dare una prospettiva alla nostra regione. E anche noi siamo tra quelli, come dire no, nel nostro piccolo che hanno cercato, anche rispetto alle politiche più larghe, se vogliamo anche europee, di dire e di starci dentro percorsi che debbono orientarsi alla crescita, perché solo con la crescita sdanno delle opportunità. E come dire no, rimuovere la barra esclusiva del rigore che c'è stato fino adesso, che fondamentalmente ha creato tanti problemi ai vari paesi e alle varie regioni. Non è facile, De Sio a Terni, tanto per fare un esempio, la Ciai Speciali non è uscita da una situazione che preoccupa molto dal punto di vista proprio dei posti di lavoro, ma si potrebbe fare lo stesso discorso per la Merloni, sono trattative che vanno avanti, svolte piccole, più o meno positive, però il problema rimane sempre forte. Assolutamente sì, io mi sono unito al coro dei trionfalismi quando c'è stata la firma dell'accordo che era una cosa quasi dovuta, nel senso è stato un armistizio rispetto a quella che era la situazione delle acciaierie e delle difficoltà che in quel momento si appalesavano. Ma come ricordavo ci sono altre aree di crisi e altre incognite che attendono il futuro dell'Umbria. Ma io, insomma, per flash, io credo che questa regione abbia bisogno di discontinuità. E la discontinuità debba essere dal punto di vista economico, dal punto di vista del modello di sviluppo che finora negli ultimi 20-30 anni ha improntato gli aspetti della vita della nostra regione e lo debba essere anche dal punto di vista politico. E lo dico, indipendentemente dal fatto che io possa far parte di coloro che appunto si candidano all'alternanza in questa regione, lo dico perché è inevitabile, è inevitabile che le classi dirigenti, sistemi di potere, sistemi che governano secondo una logica, se volete, che dal loro punto di vista può anche essere una logica buona, esatta, portatrice di un modello, si siedano rispetto a quello che è un governo interrotto che va avanti dal 1970. Perché dopo è cambiato il mondo ma i modelli culturali sono rimasti gli stessi e a volte ci vuole una scossa. La scossa è sicuramente anche quella di una discontinuità dal punto di vista politico. E questo lo dico, come dicevo, facendo anche un po' la riflessione alla fine di questo lungo percorso. Oltretutto dobbiamo avere la forza e la capacità di capire che il modello al quale l'Umbria si è riferita in questi anni è un modello che piano piano ha incominciato a mostrare delle crepe e non è possibile ristrutturare. Bisogna a volte cambiare la monocultura industriale a Terni così come una sorta di capacità autarchica di Perugia e della sua provincia, di sentirsi sganciati da quello che era il resto del mondo, perché questa era l'Isola Felice nella quale c'era un modello che era non sufficiente. È stato del tutto sbagliato. E nel momento in cui si sono stati i primi segnali del declino, invece di puntare su qualcosa che potesse sostituire quello che era il modello che declinava, ci si è arroccati attorno alla difesa di quello che piano piano scemava. Ed oggi, come una candela, piano piano ci stiamo spegnendo sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista istituzionale, come dicevo prima. Grazie Nessio. Il tempo è scaduto. Bottini, in 30 secondi, invece perché l'elettore dovrebbe dare fiducia ancora al centro-sinistra? Io credo che il centro-sinistra sia stato in questi anni una coalizione molto affidabile, sia stata una coalizione presente nei problemi della nostra regione, una coalizione che ha cercato di contenere le distanze che si sono aperte tra cittadini, istituzioni e politica, una coalizione e governi che hanno tenuto, per quanto potevano, anche in situazioni di crisi, diciamo così, ben posizionata la nostra regione da un punto di vista delle opportunità. E credo che quindi le ragioni per continuare a credere, continuare a investire in una classe dirigente che ha dimostrato di saper cambiare nel tempo, perché altrimenti il consenso è difficile anche mantenerlo e tenerlo, credo ecco che questa affidabilità, questo rigore, questa, anche se vogliamo, usi una parola molto grossa, ma si è consentito anche etica, no, della politica, quando la politica ha molto bisogno di questo, credo che siano elementi in Umbria molto sedimentati e presenti che meritino, no, diciamo così, un'attenzione positiva dei cittadini. Perfetto, ai cittadini naturalmente il giudizio su queste due visioni che vi abbiamo proposto oggi, ringrazio Alberto Bottini e Alfredo Desio e tutti voi per aver seguito oggi Il Punto. Arrivederci.